Allora, navigando sul web, benvenuti innanzitutto a questo video sul mio canale attraverso la voce. Navigando sul web ho trovato questa cosa, stavo cercando sulle false corde un pochino di cosine da dirvi in questo video che voglio appunto dedicare, il primo video del canale ufficiale alle false corde. Volevo trovare qualcosina da dirvi di interessante, no? E ho trovato questa cosa che adesso vi leggo. Non bisogna confonderle con le false corde vocali, le vere corde vocali, che sono situate, cioè le false corde vocali, immediatamente sopra e hanno lo scopo di impedire ai solidi e ai liquidi ingeriti di entrare nella trachea durante la deglutizione. Nella maggior parte delle tecniche di canto non hanno nessun ruolo nella produzione di suoni. Au, ma che sta a dir, ma c'è una vita che stiamo a ruttare al microfono, ma che nessun ruolo nella produzione di suoni. Ci voleva proprio questo video sulle false corde vocali. Sapete che avete quattro corde vocali, non due? Seguitemi, sigla e poi vi dico due cosine e vi do anche due dritte per cominciare da subito a fare dei bei rumoracci, come piace a noi, da mostrare e da bantare con gli amici. Allora, come abbiamo letto nell'intro di questo video, appunto, le false corde vocali sono in un qualche modo posizionate sopra le vere corde vocali e sono lì a protezione anche delle nostre corde vocali, un pochino anche della nostra vita, diciamo, per quello che abbiamo letto. Sono quelle che, per esempio, utilizziamo quotidianamente quando ci schiariamo la voce. Ma Luca, il mio maestro di canto mi ha detto che fa male schiarirsi la voce. Cosa fa male schiarirsi la voce? Non è che fa male, dipende come lo fai. E' ovvio che lavarmi i piedi non fa male, ma se me ne lavo con i chiodi e il martello magari fa male. Comunque, dopo questa metafora ficcante, noi abbiamo appunto quattro corde vocali e non due. Come vi ho detto, le false corde le utilizziamo quando ci schiariamo la voce, ma anche quando, per esempio, quotidianamente vogliamo imitare un ruggito. Il problema con queste tecniche, un pochino, diciamo, agli estremi della vocalità, è sempre dato dal fatto che noi li leggiamo spesso come suoni faticosi, legati a stati di ansia, di stress, e quindi il corpo, in un qualche modo, quando cominciamo a demetterli, va in protezione. Il difficile non è fare questi suoni, è far sì che non reagiamo a questi suoni, quindi continuiamo a mantenere la nostra gola bella rilassata, bella aperta, senza andare a chiudere quando li emettiamo. Quindi, ora vi ho fatto sentire l'esempio di un ruggito, una sorta di ruggito, cioè di questo suono che io sento vibrare, di cui sento la vibrazione arrivare tranquillamente all'altezza del petto. Molto, molto bene. Possiamo provare ora a cantare dentro al ruggito. Cosa vuol dire? Continuando a fare questo suono di ruggito, rilassato, profondo, che ci massaggia internamente, è piacevole, se lo facciamo correttamente, ci aggiungiamo la vibrazione delle vere corde vocali. Vi faccio sentire. Voi direte, ma il suono che fai solo di corde vocali è diverso alla fine dall'effetto, anche proprio all'altezza della nota che sentiamo, no? E proprio qua sta il giochino e l'importanza, diciamo, il lato interessante dell'utilizzo delle false corde. Quando noi sommiamo un'altezza intonata con le vere corde vocali alla vibrazione data dalle false corde, queste ultime creano un subarmonico, un armonico sotto la fondamentale che andiamo a intonare, e quindi ciò che alla fine risulta è una nota, un'ottava sotto quella che intoniamo. Vi faccio risentire. Se io cerco di intonare direttamente la nota che alla fine di tutto questo lavorio risulta, rischio di farmi male. Perché attivando le false corde tenderei a fare una nota ancora, un'ottava ancora sotto, e quindi ovviamente diventa difficile da realizzare. Quindi, siate coscienti di questo. Al ruggito, aggiungo la vibrazione di vere corde vocali, e il risultato è Con buona pace di chi ha scritto l'articolo che vi leggevo prima, questo è già canto. Un altro utilizzo molto conosciuto delle false corde è il growl. Spero che ci sia qualche metallaro come me a guardare questi video. Il growl è una modalità di canto in cui noi facciamo vibrare, appunto, assieme alle vere corde vocali, anche alle false corde vocali, in un modo un po' diverso da quello che vi ho fatto sentire adesso con il cargirà. Non so se vi avevo detto che si chiamava cargirà. Allora, la modalità che vi ho fatto sentire è molto simile, simile, ma non è esattamente quella, a ciò che viene chiamato cargira o cargirà dai mongoli, dai cantori della Mongolia. E' un suono tenuto dalla vibrazione delle vere e false corde vocali, ma come vedete è un suono molto centrato, con poca sporcatura intorno, nel quale io utilizzo poca aria nell'emetterlo. Il growl invece è una modalità di utilizzo delle false corde un po' diversa, nel senso che aumentiamo un po' il flusso dell'aria, allento un pochino la purezza della vibrazione che alla fine arrivo ad ottenere, quindi vibra anche altro, e quindi al suono delle vere e delle false corde vocali si somma anche la vibrazione di altre zone. Vi faccio sentire. Col growl io ho forte la sensazione che da questo punto esce tanto suono. Perché? Perché così è. Da questo punto se io ho questa muscolatura, quindi la muscolatura legata poi alla mandibola, ai muscoli esterni, alla laringe, al collo, la tengo rilassata quando emetto questi suoni, da qua esce tanto suono. Molto bene, spero che questo video possa essere utile per voi sperimentatori vocali e ricercatori della voce. Quello che vi ho proposto è un giochino in un qualche modo anche semplice da fare, ovviamente richiede un po' di esercizio, non prendetelo di punta da subito perché rischiate di farvi male, ma semplicemente perché non sapete ancora bene, non avete sperimentato come farlo. In realtà chi prova anche tra i miei lievi ad emettere questo tipo di sonorità, appena riesce ad agganciare il suono delle false corde insommato a quello delle vere, in modo pulito e rilassato, prova che il dolore finisce. Il dolore, affaticamento, raschino che provate a livello di corde vocali, di gola, eccetera, è dato dal non sapere ancora esattamente cosa fare e ricercare l'effetto finale, diciamo. Quindi andateci piano e dedicateci un po' di minuti ogni giorno e vedrete che presto, se seguite le indicazioni che vi ho dato, quindi ruggito, canto dentro al ruggito, attivando le vere corde vocali, riuscirete ad ottenere l'effetto velocemente. Scrivetemi qua sotto se ci siete riusciti, se vi piace questo tipo di vocalità e anche se vi fa schifo, questo è un canale libero. Ciao! A martedì per il prossimo video!